Ok. Allora, scusate, riprendo dall'inizio, avevo dimenticato di avviare la registrazione della lezione e quindi l'ho avviata adesso. Quindi la regola sarà in questo tipo di incontri, verranno registrati e poi il video ve lo distribuirò in qualche momento. Adesso dobbiamo ancora capire se distribuirlo su YouTube come le altre lezioni oppure sul portale in modo un pochino più riservato. Ecco, perché visto che poi in queste chat c'è anche poi i vostri interventi, la vostra voce, eccetera, forse non mi sembra del tutto corretto pubblicarlo su YouTube come invece facciamo sugli altri, con quei miei video, essenzialmente con le lezioni. Quindi probabilmente le condividerò sul portale della didattica. Però queste sono cose che stiamo, come potete immaginare, stiamo giorno per giorno, se non ora per ora, cercando di trovare la combinazione migliore per poter lavorare insieme. Quindi però la certezza è che c'è la registrazione e questa registrazione voi, se non sbaglio, potete localmente registrarlo. Quindi nel vostro client c'è un bottoncino che dice registra localmente e quindi alla fine della lezione potete avere direttamente la registrazione sul vostro computer. Ma in ogni caso io lo sto facendo al lato mio e quindi vi metterò a disposizione il file. Dopodiché, dicevo, il ragionamento che ho provato a fare è capire un po' come riusciamo a organizzare questo corso. Allora abbiamo provato a rimappare quelli che erano gli argomenti e la tempistica degli scorsi anni. Per fortuna questo corso è credo sia il sesto anno che viene svolto. Quindi abbiamo abbastanza, diciamo così, un buon polso su quelli che sono i tempi necessari per arrivare agli argomenti. Sul sito degli anni scorsi vedete che avevamo un calendario, diciamo così, ora per ora di quello che veniva fatto. Ovviamente adesso il concetto di ora al direzione è un pochino sfumato, nel senso che se io faccio un video, facciamo un contenuto il cui video dura un'ora, è finito lì. Se dura un'ora e cinquanta, anziché un'ora e trenta, durerà un'ora e cinquanta. Quindi non abbiamo più il vincolo di organizzare gli argomenti a blocchi di un'ora e mezza o di novanta minuti, come sono le lezioni in aula. Quindi un pochino il mapping lezione-argomento, da un lato è un pochino più flessibile. Dall'altro lato, quando uno registra una lezione e senza gli studenti di fronte, di solito va più veloce. Perché comunque quando sei in aula, guardi le persone in faccia, c'è la domanda che svolge sul momento, eccetera. Mentre quando registri vai un pochino più velocemente, quindi il tempo è diverso. Ma al netto c'è questa differenza tra il tempo dedicato in aula a un certo argomento e il tempo dedicato in video a lo stesso argomento. La sequenza di argomenti, grosso modo, dovrebbe essere questa. Quindi noi siamo qua per la prima settimana in cui abbiamo fatto le prime lezioni introduttive su JavaFX. Visto che il calendario delle lezioni per noi era lunedì martedì e mercoledì laboratorio, cerchiamo di mantenere sempre questo ritmo. Quindi lavoriamo nella prima parte della settimana sempre. Quindi noi cercheremo di distribuirvi il video nella seconda metà di una settimana per la settimana successiva. Quindi nella seconda metà, diciamo così, da mercoledì e giovedì, aspettatevi, diciamo così, i contenuti relativi alla settimana 2, di cui discuteremo poi appunto nella settimana seconda. Io non ho messo delle date qua, ho messo volutamente il numero di settimane per due motivi. Uno che già vediamo che probabilmente perderemo una settimana, perché il semestre di 14 settimane è una è già saltata, la settimana scorsa non abbiamo fatto lezione, anche se io ho già cominciato a darvi un po' di materiale in anticipo, così un pochino giocando sul tempo. Ma probabilmente dovremo comprimere in 13 settimane quello che normalmente veniva fatto in 14. Cercheremo di usare la flessibilità adatta allo strumento, diciamo così, online, per riuscire in parte a recuperare quello che si faceva prima. Normalmente nel corso, l'ultima settimana, settimana e mezza, era dedicata totalmente ai temi d'esame, a svolgere i temi d'esame. Adesso qua in questo elenco qui non lo vediamo più, il tema d'esame, ma immaginiamocelo, immaginiamo che comunque svolgeremo in parallelo a questo. Quindi in qualche modo dobbiamo giocare un pochino con la flessibilità dei tempi per cercare di riuscire a fare tutto e soprattutto la parte di preparazione all'esame che è importante. Per il momento ovviamente stiamo tutti pensando che l'esame a giugno sarà ancora nella forma tradizionale, quindi esame in laboratorio, che tutta questa complicazione delle video-lezioni prima o poi finirà, prima o poi finirà di sicuro, ma che finisca prima degli appelli d'esame. Altrimenti ci inventeremo qualcosa, come abbiamo sempre fatto, cioè il mestiere dell'ingegnere, quello di trovare soluzioni ai problemi. E se i problemi non fossero nuovi ogni volta non sarebbe neanche divertente, quindi in qualche modo faremo. Ok, quindi noi avremo una prima parte, diciamo così, di conoscenza di JavaFX e di impostazione di progetti un pochino più complessi con JavaFX. Tra l'altro domanda, se io sto muovendo il mouse qua, voi lo vedete il mio mouse? Posso usare il mouse per indicare delle parti di lucido? Sì? Ok, grazie mille. Perché altrimenti rischiavo di fare dei gesti inconsulti da solo e nessuno li vedeva. Adesso non so se ci sia un modo più... Però aspetta, con PowerPoint puoi anche fare così, è bellissimo. Ok, va bene. Allora dicevo, le prime settimane approfondiremo la programmazione JavaFX, abbiamo visto proprio la parte minima ora e per ciò che vediamo, ciò che abbiamo visto finora, ci permette di fare solo esercizi atti molto molto semplici, come quello di questa settimana. Dalla prossima settimana, quindi dalla prossima lezione, affronteremo un modo di articolare i progetti in modo un pochino più ordinato per poter sopportare, diciamo così, dei progetti più complessi. Quindi questo MWC sta per model view controller che è il pattern di programmazione che utilizzeremo. Un, due, tre settimane, non sono troppe, ma in realtà non sono lezioni, non sono spiegazioni. Con molto del tempo cercheremo di dedicarlo proprio agli esercizi. Quando facevamo il corso in aula, dedicavamo parecchie ore a svolgere esercizi in aula e qui, anche qui, vogliamo continuare a fare la stessa cosa. E quindi, ovviamente, le prime lezioni sono un pochino più teoriche perché dobbiamo avere poi concetti, ma poi molto del tempo sarà dedicato proprio a svolgere, una volta dicevo, a svolgere esercizi insieme in aula. Adesso questo non sarà possibile, troveremo la modalità di farlo. Quindi, ecco, su questo magari vi farò una domanda quando finisco un po' questa introduzione, e così apro la discussione, però cominciate a pensarci. Noi abbiamo tre tipologie di argomenti, di lezioni. Uno è, se vogliamo, una lezione teorica. Ti spiego qualcosa. L'altra è facciamo un esercizio, svolgiamo un esercizio insieme. E quindi io ho sempre aperto Eclipse e fatto esercizi direttamente in aula. Poi di solito, come sempre, quando vai a programmare sbagli qualcosa, correggi, ma non importa. Nel senso che è importante anche vedere sia come uno ragiona che come uno costruisce un programma, ma anche come uno corregge poi i problemi. Cioè, nel senso che gli errori li facciamo tutti. Ed è giusto saperli correggere. E quindi la parte di coding, diciamo così, insieme. E poi c'è la parte di lavoro correggero e proprio. Allora, noi abbiamo questi due strumenti. C'è la lezione registrata, diciamo, quella che vedete su YouTube, e la video chat, come stiamo facendo adesso. Quindi, cominciate a pensarci. Poi dopo, quando prendiamo la discussione, mi dite cosa ne pensate. Che cosa preferite? Preferite avere i video e guardarveli comodamente, anche video nei quali magari noi sviluppiamo esercizi? Oppure preferite che per la parte di esercizi lo facciamo in video chat? anche se ovviamente è un pochino più scomodo, ma magari permette un'interazione migliore. Oppure anche le lezioni preferite fare in video chat e quindi di fatto ci allineiamo all'orario del corso. Ecco, per me è abbastanza indifferente. Nel senso che comunque gli argomenti sono gli stessi, le lezioni che dobbiamo fare sono le stesse. Bisogna anche un po' capire cosa preferite. Questa domanda ve la faccio adesso, dopo che abbiamo provato, o stiamo provando, le due modalità diverse. Quindi questo discorso era per dire sembra che gli argomenti vengano tirati alla lunga, in realtà sono argomenti relativamente brevi, ma per essere digeriti richiedono una certa serie di esercizi sicuramente. Ecco, poi c'è quest'altra cosa, non prendetela sotto piede, qui ho scritto ripasso barra integrazione collections. Io so che ogni anno questa cosa qua viene vista un pochino, storcendo il naso, dicendo, ma Fabrizio Lamberti ci ha appena fatto un corso intero in cui ci ha raccontato tutto Java, le collection, le liste, cose di questo genere. Perché dobbiamo passare due settimane a ripassare? Beh, in realtà è più integrazione che non ripasso, ma come vedrete, come tema comune del corso, noi non andiamo a raccontare la programmazione, il linguaggio di programmazione, ma più che altro come si usano le cose. Cioè, voi avete già visto tante cose nei corsi di programmazione oggetti, le realità, le classi, i metodi, eccetera. Però la domanda che forse non, ovviamente in un primo corso di programmazione oggetti, non si arriva a fare, è che cosa me ne faccio di tutto ciò? Cioè, in che contesto lo uso? Quando è che devo usare la realità? Ma perché non posso fare tutte le classi statiche e non ci penso più? Ecco, a queste domande cerchiamo di rispondere, ponendoci non dal punto di vista di impariamo il linguaggio, ma dal punto di vista di risolviamo un problema. Quindi prenderemo un esercizio e poi in questo esercizio troveremo le tecniche che andranno a utilizzare i costrutti del linguaggio che conosciamo che siano più adatti. Infatti parleremo non tanto di linguaggio, ma di pattern di programmazione. Quindi andiamo a riprendere cose che in parte sapete già, mentre in parte non ancora, e rivederle un pochino in quest'ottica. Poi entriamo nel vivo del corso, essenzialmente dove abbiamo la settimana che ho identificato come, etichettata come settimana 4 è quella su accesso al database. Come vi dicevo in introduzione al corso, non facciamo esercizi con dei dati finti, facciamo esercizi con dei dati diciamo di grande dimensione, quindi useremo del database e impareremo a collegare il nostro programma Java con il database relazionale. Quindi in qualche modo stiamo collegando, facendo la ponte tra ciò che avete appreso nel corso di programmazione oggetti e il corso di base di dati. Non è particolarmente complesso, però ci permette sicuramente di approfondire i problemi con dei dati veri. E questo, diciamo, le prime quattro settimane sono la base. Poi abbiamo i due grossi blocchi, la ricorsione, i grafi, tre grossi blocchi, scusate, e le simulazioni. La ricorsione è un argomento sia teorico che pratico abbastanza, diciamo così, complesso. È, se vogliamo, l'unico argomento difficile di tutto il corso, difficile nel senso che proprio mentalmente, cognitivamente, non è troppo intuitivo e quindi bisogna entrare un po' nel modo di ragionare. Quindi ci dedicheremo indicativamente tre settimane, due e mezzo, adesso qui ovviamente non ho messo tutti i dettagli di cosa pensiamo di fare, ma, diciamo così, a peso, sono circa tre settimane, di esercizi. Perché la ricorsione la spiego in mezz'ora, poi ci mettiamo tre settimane a capirla, facendo esercizi di difficoltà via via crescente. Questo è, se vogliamo, preparatevi pure, quel giorno lì prendete tanto caffè per essere al vispi, è l'argomento, diciamo così, un pochino lo scoglio di questo corso. dopodiché su questo andiamo a costruire il resto. Ad esempio, tutta la parte sui grafi, sono approfondimenti sui database, non richiedono una settimana intera, li inseriremo qua e l'AMAD, è la prosecuzione del punto 4. Poi c'è l'argomento sui grafi, i grafi avete già visto che cosa sono, da un certo punto di vista più matematico, diciamo, più teorico nel corso di ricerca operativa. noi riprendiamo queste cose, quindi andiamo a reintrodurli rapidamente, ma non vi è stato spiegare tutto, ma soprattutto vedremo come gestirli, come gestire i grafi da un programma Java. E come, applicando la filosofia del corso, non andiamo a costruire un grafo usando i singoli oggetti Java, eccetera, ma useremo una libreria che si chiama JGraphT che contiene già praticamente tutti i metodi che ci servono per poter lavorare su un grafo. Quindi impareremo tra una libreria che gestisce il grafo e non direttamente a costruirci il grafo a basso livello, diciamo così. E quindi, se dobbiamo trovare, dico una per esempio, un cammino minimo tra due vertici, non devo andare a implementarmi io l'algoritmo, me lo trovo già nella libreria. È chiaro che poi devo sapere quale algoritmo mi serve, capire quale complessità abbia e capire come richiamarlo, come usare quello che è fornito nella libreria. quindi questo ovviamente devo capire ma non necessariamente devo implementare tutti i dettagli. Due o tre settimane lavoreremo sui grafi e sicuramente, come dicevamo, nel primo esercizio d'esame sarà sicuramente la lettura di un database, dei dati presenti in un database e la costruzione di un grafo che, diciamo così, ospiti, memorizzi di quei dati e le relazioni tra questi dati e poi qualche piccola elaborazione su questo grafo. Quindi la parte facile dell'esame è leggo il database facendo le query, costruisco un grafo e analizzo questo grafo. Poi c'è l'ultimo argomento che è quello delle simulazioni di eventi che è un po' a sé stante in certo senso ma si appoggia sicuramente sulle collection e anche sui grafi che è quello che, lo vedremo bene, ci permette di costruire come dice il nome delle simulazioni di situazioni più o meno realistiche. Quindi molte volte quando tu devi modellare un sistema un sistema finanziario, un sistema logistico, un sistema aziendale, un sistema tecnologico, se sei fortunato ma non capita mai hai delle equazioni da risolvere. Dici vabbè io faccio il modello e poi la soluzione qual è diciamo così il tempo migliore per fare restocking di un magazzino. Ci sono dei modellini che ti dicono sotto certe ipotesi statistiche la cosa migliore che puoi fare è questa. Però sotto certe ipotesi la validità dei modelli non è poi sempre così garantita e di fatto quello che succede è che il modello ti dà una predizione ma ti permette di avere una predizione solamente in un contesto molto semplificato. Invece noi quello che impareremo a fare è simulare il sistema almeno sistemi molto semplici e ci daremo un metodo per riuscire a simulare che cosa avviene anche con delle regole di evoluzione un pochino più complesse non sistemi che sono descrivibili attraverso equazioni differenziali perché quella c'è la matematica che ci risolve ma sistemi che sono essenzialmente ad eventi cioè capita una certa cosa il sistema regisce in un certo modo che cosa succede quindi immaginiamo spostamenti di beni di persone eccetera eccetera e le loro conseguenze quindi impareremo a gestire questo tipo di problematiche sempre attraverso la realizzazione di un programma che usarebbe via JavaFX e legge i dati del database. Questi due argomenti che sono quelli della ricorsione in particolare applicata sui grafi qui non c'è scritto ricorsione sui grafi ma il grafo è per sua natura una struttura ricorsiva quindi tutti gli algoritmi che lavorano sui grafi lavorano anche in modo ricorsivo dicevo la ricorsione e le simulazioni sono i due argomenti della seconda domanda d'esame quindi in ogni esame troviamo sempre la prima domanda come vi dicevo prima grafi e database la seconda domanda può essere o una domanda di ricorsione o una domanda di simulazione che lavora sullo stesso grafo su cui avete lavorato nella prima domanda quindi questo è grosso modo vista molto da lontano è l'organizzazione del corso il calendario essenzialmente che prevediamo per il corso calendario è una parola grossa qui in mezzo da qualche parte ci sarà Pasqua qui in mezzo da qualche parte ci sarà il ritorno in aula non vi so dire so quando è Pasqua sicuramente ma probabilmente potremo anche sfruttare i giorni che prima erano etichettati come vacanze di Pasqua come sospensione didattica per recuperare quella quattordicesima settimana che abbiamo perso e quindi qua non ho messo una settimana di interruzione a un certo punto quindi sono settimane flessibili inventiamo il concetto di settimana flessibile non la settimana di calendario per cercare di riuscire a rientrare negli argomenti quindi questo è un po' a livello di chiacchierata che cosa ci dobbiamo aspettare insieme ah sì la domanda allora degli argomenti che esponono non sembra ma vorrei comunque chiederci gli argomenti che tratteremo sono gli stessi gli anni precedenti sì sono gli stessi argomenti degli anni precedenti non abbiamo cambiato il programma del corso l'unica cosa che abbiamo cambiato è la versione di Java per il resto le lezioni di quest'anno seguiranno lo stesso canovaccio canovaccio scusate delle lezioni dell'anno scorso per cui se volete potete anche guardarvi le video lezioni tutta la parte teorica è esattamente la stessa le esercitazioni seguiranno la stessa falsa riga l'unica cosa che cambierà effettivamente siamo passati da suggerire di lavorare con Java 8 con Java 8 alla versione Java 11 che complica un pochino le cose nel senso che soprattutto configurare le librerie JavaFX con Java 11 non è banale motivo per cui gli abbiamo messo a disposizione quell'archetipo Maven che a qualcuno ha dato problema e speriamo poi dopo che le cose finino lisce in seguito ma poi la sostanza non cambia una volta che hai creato il progetto il modo di programmare il tipo di libreria cioè i metodi che sono disponibili nella libreria sono gli stessi quindi quello che cambia è praticamente la creazione dei progetti la condivisione dei progetti e le versioni di Java e di Eclipse che dobbiamo installare il resto ripercorre esattamente quello che è stato fatto gli scorsi anni da questo punto di vista ok a questo punto magari lascerei parlare un po' voi per capire se avete delle domande se avete degli interventi se avete dei dubbi io le le domande che vi farei cioè le cose che sono curioso di sapere sono queste aspettate un attimo qui c'è sì come si fa se avete avuto dei problemi di installazione dei vari tool poi l'altra domanda che avevo già accennato prima preferite video diciamo per capirci youtube oppure chat come quelle che stiamo facendo adesso con zoom e poi qualunque qualunque altra domanda altre domande diciamo così se quindi lascerei a voi se volete come dico aprire il microfono e parlare oppure scrivere qualcosa nella chat così possiamo diciamo così discutere su ciò che allora progetto allora due domande che voi domanda vedete la chat che vedo io questa finestra una finestra che c'è qua sì benissimo quindi riuscite anche a leggere a parte che la vedete nella chat ma la vedete anche condiviso da me ok non si potete fincento altrimenti si parisco i messaggi allora andiamo a ripercorrere per problemi sui esercizi e laboratori faremo sempre video chat tramite zoom mi sento di dire per il primo mese sì nel senso che ho pagato una licenza di zoom per un mese quindi per un mese sicuramente lo usiamo e poi vedremo se continuare a usare zoom che mi pare che stia funzionando bene oppure appoggiarsi su altri strumenti i laboratori la nostra idea di laboratorio come vi ho scritto nelle mail è provate a lavorarci e poi in questo caso mercoledì mattina cioè domani mattina ci colleghiamo e fate le domande vedete potete fare domande rispetto all'esercizio che state facendo voi quindi zoom permette anche se diciamo così il coordinatore della chiamata lo abilita a voi di condividere lo schermo quindi possiamo vedere ciò che stavate facendo non sappiamo bene come funzionerà nel senso che se siete in tanti a far domande bisognerà in qualche modo organizzarsi non so se con una distrattesa o cose così del genere però l'idea del laboratorio è che noi non andiamo a spiegare nulla di nuovo ma siamo lì a disposizione per le vostre domande in quelle ore poi non toglie che potete anche provare a far domande via mail altrimenti ma almeno in quelle ore sapete su sei ore a settimana sapete che c'è qualcuno a disposizione per poter rispondere l'altra domanda dice comunque è possibile registrare tutte le lezioni per evitare problemi dovuti a connessione e errori di sistema sì nel senso che le lezioni che registro io sono su YouTube poi magari troviamo un modo se qualcuno è più comodo scaricarsi il file anziché guardarlo online su YouTube io ovviamente i file li ho tutti quindi se per voi è un'esigenza io cerco di distribuirvi anche il file video grezzo per quanto riguarda le video chat dicevo io le sto registrando la sto registrando e alla fine della lezione Zoom mi fa scaricare un file e io posso poi condividervi questo file per quanto riguarda invece voi mi pare che lato vostro su Zoom potete anche fare registro in locale e quindi alla fine della lezione potete avere già direttamente immediatamente il file della video chat di oggi sul vostro computer quindi l'idea è comunque l'obiettivo è comunque di aver tutto registrato tutto il corso sia le parti diciamo così video sia le parti di chat non c'è progetti lavorativi andando a consegnare con una scadenza no no il laboratorio non vi chiediamo di consegnare nulla ok l'esame è all'esame e basta durante i laboratori lavorate voi voi stessi nel vostro computer e provate a risolvere gli esercizi che sono proposti noi non controlliamo se ne fate ne riguardate anche perché onestamente vorrei evitare che voi perdeste tempo a copiare l'esercizio fatto dal vostro amico perché poi a volte quando c'è la consegna obbligatoria è più importante consegnare che non farlo ecco allora io preferisco che vi concentriate nel merito nel provare solo l'esercizio magari non ci riuscite magari avete dei problemi è normale in alcuni casi magari vi bloccate su delle stupidaggini però noi cerchiamo di essere lì per aiutarvi nel momento in cui lo risolvete nel momento in cui avete il problema perché poi un compito un elaborato consegnato a parte che noi non avremo mai il tempo e il piacere di andarli a controllare tutti ma è già il punto di arrivo il problema non è tanto il punto di arrivo avere un programma che funziona è esserci arrivati e fare la strada e quindi trovare riuscire a sbloccare i vari punti intermedici i vari staccoli intermedici quindi noi non vi chiediamo di consegnare nulla semplicemente siamo a disposizione per aiutarvi questo vuol dire che i laboratori se volete potete non farli l'unica cosa che vi dico è che se non fate i laboratori di sicuro l'esame non lo passate quindi perché l'esame è esattamente uguale ai laboratori semplicemente di una difficoltà un pochino più grande quando andremo avanti vedremo che da metà corso in avanti praticamente faremo gli stessi esercizi con la stessa difficoltà dell'esame quindi la preparazione principale è quella però non dovete consegnare nulla e non contano come voti all'esame molti di noi hanno riscontrato problemi con l'importazione del laboratorio 1 in Eclipse sì chiedo scusa perché è un problema nostro è stato pubblicato per un certo periodo per un certo numero di ore una versione del del laboratorio che era compatibile con Java 8 e non con Java 11 e quindi non sulla configurazione che vi abbiamo fatto installare di Eclipse non funzionava adesso abbiamo risolto la cosa grazie di avercelo segnalato speriamo che non capiti più in base come dicevo prima tutti sbagliano ovviamente e quindi adesso dovreste poter riimportare il progetto con la versione che c'è attualmente online del laboratorio 1 e dovrebbe funzionare io ho raccomando tutto prima di collegarmi per sicurezza ovviamente se avete già fatto un fork precedentemente clonato il progetto dovete cancellare il progetto nel vostro deposito di GitHub rifare nuovamente fork e potreste lavorare col progetto nuovo allora Tom mi dice ha dei problemi su FX Clips per il programma 32 bit allora il problema di FX Clips è che il tool che sviluppa FX Clips tanto per dirlo era un plugin di Eclipse che serviva prima di Java 11 e prima diciamo di tutto il pasticcio che abbiamo fatto con Maven per la creazione dei progetti era un tool che aiutava essenzialmente a creare progetti di JavaFX impostandoli in modo corretto essenzialmente lo usavamo per quello il problema di FX Clips lo avevamo già visto gli anni scorsi che il team di sviluppo è molto piccolo è una zienducola molto piccola e quindi non riesce a mantenere aggiornato il plugin su tutte le versioni possibili di Eclipse quindi tipicamente FX Clips c'è sull'ultima versione di Eclipse ma se lo cerchi per le versioni precedenti non c'è più perché non lo supportano più quindi questo è un pochino il problema di non riuscire a se uno non riesce a installare le versioni che abbiamo consigliato è possibile che ci siano degli strumenti che magari appunto due anni fa funzionavano ma adesso non sono più supportati perché quel team di sviluppo si sta concentrando su Java 11 non più su Java 8 quindi questo è il motivo per cui non l'hai trovato sul marketplace quindi bisogna trovare modo di creare i programmi direttamente in Java e aggiungere le librerie a mano questo è il limite appunto lo vediamo individualmente perché è un problema molto specifico Oscar dice ho domande su GitHub non ho ben capito come si fa a portare il codice a una versione precedente una volta che sono stati fatti i commit sia a livello di repository sia a livello di working copy quindi tu dici io ho fatto di commit sono andato avanti col progetto e poi vorrei tornare indietro perché mi sono accorto diciamo che qualcosa non andava e così via allora questo qui si fa vediamo se è un progetto che abbia una storia di più di un commit vediamo un po' allora andiamo nel team mostra le history e qui abbiamo l'history con tutta la storia ecco se io voglio tornare quindi adesso ovviamente la working copy mi fa vedere l'ultima versione scusate non è questo chiudiamo un po' di la working copy ovviamente mi fa vedere l'ultima versione però se volessi trovare nella versione precedente ho questo comando quindi seleziono nella history la versione in cui voglio tornare e ho il comando checkout e mi mi porta mi riporta alla versione del programma che c'era in quel commit è come se il tempo fosse tornato indietro e mi fa vedere lo stato del progetto in quel momento quindi è possibile tornare indietro in questo momento questo lo faccio solo sulla copia locale perché la history repository contiene comunque sempre tutto quindi su github non posso fare questa operazione perché github ha comunque l'intera storia sono io che decido quale punto della storia voglio copiare nella mia working copy in modo che io possa vedere direttamente nell'editor quindi è una cooperazione che si fa sempre in locale io ho l'intera storia del progetto ma poi posso fare l'operazione di checkout checkout è prendo del repository e copio nella working copy nella working copy sono i file su cui lavora normalmente io quello che estraggo dalla repository è l'ultima versione perché la working copy lavora a partire dall'ultima versione ma posso estrarre cioè checkout una versione precedente poi a questo punto ovviamente questa versione se volessi salvarla dovrei o aggiornare al master oppure creare un branch separato perché magari faccio delle varie versioni però questo è poi il passo successivo di come vado a reintegrare le cose precedenti però navigare la storia semplicemente si fa con le operazioni di checkout dunque possiamo registrare solo se l'host ci dà i permessi mi scrivono a me però pare di avere dei dati questi permessi quindi la prossima volta controllo bene però mi pare di avere adesso questo qua non lo vedo perché è nelle impostazioni della registrazione quindi la prossima volta verifico meglio però a me pare di avervi dato il permesso di registrare quindi dovreste poterlo fare se no controllo meglio ok poi rettifico con l'esecuzione che scrive Tobia non so cosa voglia dire forse è una cosa vecchia non so Vito mi dice a mio parere sarebbe efficiente fare lezioni su YouTube come ho fatto finora impostare un'ora settimanale qui su Zoom per chiarire i nostri dubbi e rispondere alle varie domande riguardanti le lezioni della settimana e vedo che c'è un certo accordo che c'è un certo accordo su questa modalità quindi poi vediamo gli altri messaggi poi ci ritorniamo questo messaggio dice che ha Maritati dice che c'è un messaggio dopo aver lanciato il main questo sembra un'incompatibilità tra il driver della scheda grafica e la versione di JavaFX attuale quindi la prima cosa da verificare è già aggiornare come dice il messaggio aggiornare il driver della scheda grafica perché ovviamente JavaFX essendo una libreria grafica userà la libreria grafica messa a disposizione del sistema operativo e può darsi che su alcune versioni più vecchie ci fossero dell'incompatibilità quindi tu mi chiedi se è un problema non so se sia un problema nel senso che magari è un baco o un'incompatibilità che vale solamente per le cose più animazioni videogame eccetera quindi cose più spinte dal punto di vista grafico e per il tipo di programma che facciamo noi magari non impatta oppure magari sì ecco è un warning quindi il programma dovrebbe andare avanti lo stesso probabilmente il tipo di programma che facciamo noi non risente particolarmente dei dettagli della scheda grafica della prestazione più avanzata della scheda grafica però converrebbe sempre aggiornare si possono utilizzare anche i commenti su YouTube per piccoli dubbi che si possono risolvere tra noi studenti assolutamente sì nel senso che anche i commenti su YouTube io li leggo io sono uno o meglio noi siamo tre come codocenti del corso però cerchiamo sempre di rispondere quindi se la domanda la fate su YouTube se la domanda la fate su via mail o via chat ovviamente noi cerchiamo nel limite delle 24 ore che abbiamo a disposizione come tutti voi cerchiamo di rispondere quindi se vi rispondete tra di voi è ottimo in ogni caso quando voi scrivete un commento su YouTube l'autore del video quindi io o Alberto per il video che ha fatto lui riceviamo la notifica e quindi sappiamo che andiamo a vedere il commento quindi cerchiamo di dargli soprattutto se è una risposta puntuale semplice riusciamo facilmente a rispondere i commenti di YouTube non sono la piattaforma migliore per far gruppo essenzialmente per far forum quindi vediamo come va la cosa se vi accorgete che trovate la necessità di avere uno spazio su cui parlarvi tra di voi porvi domande rispondere via vicenda o cose di questo genere cerchiamo di creare uno spazio di questo genere una sorta di forum o qualcosa di questo genere che non sia terribilmente brutto come il forum sul portale ma qualcosa che sia un pochino più utile da usare quindi vediamo se vi manca questo spazio e che lo capisco perché in aula o in laboratorio ti allunghi il naso tu come l'hai fatto vi parlate e vi risolvete il problema tra di voi che è la cosa migliore o magari imparate qualcosa insieme adesso questa modalità un pochino forse manca quindi aiutatemi anche a capire se riusciamo in qualche modo a metterlo a disposizione andiamo avanti Federico mi dice sono secondario magistrale di ingegneria matematica l'interno ha distribuito sia programmazione oggetica che base di dati ok allora qui c'è una domanda attend text in realtà non è attend text ma sarà append text immagino come metodo di di un oggetto di tipo che abbia la proprietà text un oggetto java effects che abbia la proprietà text la differenza è che set text sostituisce al testo esistente il testo nuovo mentre append aggiunge quindi con catena quindi se io ho già un'area di testo in cui c'è già del contenuto con append text io aggiungo al contenuto esistente che rimane il nuovo contenuto mentre con set text cancello quello vecchio e inserisco quello nuovo sulla domanda di effects non ti so rispondere al volo perché bisogna provarlo sul tuo computer essenzialmente avendo una configurazione particolare quindi magari alla fine della lezione se ti puoi collegare se puoi rimanere collegato un attimo mi sembra che io possa darti il controllo e quindi tu possa condividere il tuo schermo e proviamo a vedere insieme come funziona quindi è una cosa da risolvere individualmente questa quindi mentre pensate ad altre domande io mi colgo il suggerimento se qualcuno non è d'accordo parli ora o taccia per sempre per sempre no ma l'organizzazione che preferite è quella in qualche modo che abbiamo già già impostato finora quindi noi faremo le lezioni in video e facciamo le video settimanali di questo tipo essenzialmente che consulenze domande discussioni cose di questo genere il dubbio che ho ancora è quello sulla svolgere esercizi insieme voi avete visto e datemi un feedback su questo poi rispondo anche Vincenzo la lezione che ha registrato Alberto Mongia ad esempio dove ha realizzato l'esercizio dove si è aperto l'esercizio essenzialmente ha sviluppato il codice quella la preferite una lezione di quel tipo lì la preferite in video o la preferite in chat c'è un po' di c'è un 70% video qui non si possono fare di sondaggi su sta cosa qua magari sì magari lo scopriamo con dei plug-in un 80% 85% dice video e qualcun altro preferisce chat ce la studiamo cerchiamo di capire magari magari possiamo pensare di fare di fare alcuni esercizi selezionati in chat e poi e invece altri li organizziamo in video adesso questo per il momento dobbiamo capire anche noi qual è la cosa migliore da fare il vantaggio di fare live coding in chat è che voi potete a un certo punto fare una domanda se qualche cosa non lo capite altrimenti diventa forse più difficile anche fare la domanda stessa vedendo il video ah ma sì al minuto 3.27 vi ho detto questa cosa quindi un pochino un pochino complesso però vediamo magari magari facciamo un mix delle due cose ecco impariamo essenzialmente facendo ok allora torniamo alle domande pending tu mi dici conoscenza di SQL C++ ma la pressione di carrile non ho potuto seguire la programmazione di oggetti ho cercando recuperare il materiale del corso di programmazione di oggetti su che cosa bisogna concentrarsi e che questa è una domanda in realtà un pochino più generica rispetto a quella che stai ponendo tu Vincenzo io sulla pagina sul sito del corso se andate a trovare il sito del corso c'è una pagina di FAQ che a questo punto dovremmo poi arricchire con i problematiche relative alla videoregistrazione eccetera dove una FAQ è stata proprio non sono riuscito a seguire le programmazioni oggetti che cosa posso fare allora le due cose che si possono fare allora in generale poi nel caso di Vincenzo è più specifico una cosa che si può fare è chiedere a Lamberti se vi abilita a vedere le sue video lezioni e quindi seguirle a velocità accelerata o perlomeno cercare di recuperare la conoscenza principale del linguaggio Java e dei costrutti principali della programmazione oggetti io quello che avevo trovato negli anni scorsi è un libro che si chiama Head First Java che è un libro molto di programmazione Java ovviamente che tra l'altro si trova anche diciamo così online in formato elettronico e costa meno da quel punto di vista che è un libro di introduzione alla programmazione Java molto fatemi dire informale cioè non è il solito libro noioso ma insegna con un metodo diciamo così di impostazione didattica più leggero e quello mi sembra un buon testo per chi dovesse studiarsi Java da solo e magari più rapidamente rispetto a vedersi le video lezioni del corso si può andare a spulciare i capitoli che gli servono quindi qua ho indicato il contenuto tutto il libro tranne questi capitoli che invece non ci servono non sono trattati nel corso nel caso questo in generale quindi per chi avesse carenza di Java di programmazione oggetti di Java potete fare riferimento a questo l'altra la domanda invece specifica di Vincenzo invece diceva io so già il C++ e quindi tu sai già una parte dei concetti di programmazione oggetti che ti servono ciò che ti serve più che altro è la sintassi di come si mappano queste cori in Java anche che poi C++ è un linguaggio talmente vasto che poi bisogna capire quale sfumatore di C++ è usato quindi come si mappano i costrutti della programmazione oggetti in Java che è una cosa relativamente semplice quindi costruittori metodi l'interfaccia eccetera eccetera che sono un pochino specifiche del Java rispetto al C++ e poi tutta la parte delle librerie standard quindi soprattutto sulla gestione delle collection liste eccetera ok andiamo in fondo allora Michelangelo dice proverei a fare un gruppo Telegram e fare i sondaggi su queste problematiche allora se voi non ho capito se questo gruppo Telegram mi ci volete mettere dentro noi me scusami noi docenti oppure volete farlo tra di voi se volete farlo tra di voi per discuterne ben volentieri io so che di solito in questi gruppi i docenti è più gradito che rimangano fuori perché siete più liberi di parlare se invece lo volete qualche cosa in cui possiamo interagire anche noi ecco l'unica cosa in un gruppo Telegram di questo genere diventa molto difficile per noi riuscire a rispondere alle domande perché tu come stiamo facendo adesso in chat per carità è molto ordinato perché siamo in singola ma su Telegram tu hai una domanda poi la risposta è 60 messaggi sotto in mezzo hanno parlato di tutte le altre cose quindi anche per esperienze è molto difficile riuscire a dare assistenza con quel canale se invece volete fare un gruppo per lavorare tra di voi benissimo nel senso che siete liberi di farlo chiaramente poi se da lì emergono delle indicazioni dei suggerimenti o delle richieste per il corso benissimo me lo fate poi sapere sugli appuntamenti Zoom il prossimo appuntamento è domani domani c'è il laboratorio e quindi non sarà una chat articolata come questa ma noi saremmo online e voi potete collegarvi fare domanda a questo punto anche magari anche in voce per spiegarvi meglio sul testo sulla risoluzione del laboratorio 1 quindi l'appuntamento su Zoom è domani dalle 8.30 alle 11.30 per il gruppo 1 e dalle 11.30 alle 14.30 per il gruppo 2 proviamo per la prima settimana almeno a mantenere lo stesso orario che avremo nel laboratorio fisico perché se siete in tanti e vi collegate tutti insieme non riusciamo sicuramente a rispondere a tutti quindi proviamo a fare questa prima macro divisione quindi dall'A alla L come siete divisi per gli altri corsi paralleli vi collegate alle 8.30 dalle 8.30 in avanti e invece gli altri si collegheranno dalle 11.30 in avanti poi vediamo come va questa cosa se ha senso fare degli slot più piccoli magari in cui magari dividiamo oppure lasciare una cosa più aperta e questa è la prima volta diciamo nella vita che facciamo queste cose quindi cerchiamo di capire qual è il modo migliore di riuscire a venire l'incontro per quanto riguarda invece una chat di consulenza di domande e risposte come questa io cercherò di mantenere l'appuntamento fisso al martedì alle 11.30 come questo quindi la prossima settimana la replichiamo come questa cioè vi carichiamo i video ve li guardate e martedì alle 11.30 ci troviamo per discutere poi altra domanda Enrico Ciuffreda nella prima esitazione ha usato il metodo get selected text potrebbe spiegare un metodo per trovare più facilmente questo metodo è già inserito in java che sia un sito qualche funzione allora a parte che get selected text non era necessaria per il primo esitazione perché quello ti dice qual è il testo che l'utente ha selezionato in quel momento ok quindi io ho fammi prendere una casella di testo allora si inviltero eccolo qua che parte quindi mettiamo una textarea ad esempio per capirci solo per avere un preview è chiaro che non posso ok ok questa è una finestra con una textarea ok allora se da programma voglio conoscere il contenuto di questo cioè ciò che ha scritto l'utente in quest'area di testo uso la proprietà text semplicemente la proprietà text e quindi in java farò get text quindi farò il nome dell'oggetto che contiene la textarea punto get text lo scrivo qua quindi sarà textarea punto get text in questo caso mi dà il contenuto testuale se faccio set text lo cambio se faccio get text lo lecco invece il get selected text che è indicato mi darebbe qual è il testo che è stato evidenziato selezionato dall'utente che non è detto che sia tutto non è detto che sia una parte non sappiamo che cosa fa l'utente quindi in questo caso non è il metodo che ci serviva perché noi vogliamo avere l'intero testo scritto dall'utente non solamente la porzione di testo che l'utente ha selezionato tutti questi metodi sono tutti nella documentazione di java effects se io torno su ad esempio su lo sim builder le proprietà vedete che qua ogni volta che nel sim builder sulla destra vedete una casellina questa casellina corrisponde a una proprietà dell'oggetto quindi qui c'è scritto text vuol dire che c'è una proprietà c'è un metodo get text e un metodo set text per leggerlo e scriverlo e così via dove trovo le informazioni se voi cliccate semplicemente sull'icona text vi porta direttamente alla documentazione alla documentazione del metodo dove sono tutti questi metodi sono qua nel senso che questo metodo qua adesso siamo andati a documentazione ma è la documentazione della pagina di test control input che contiene tutte queste proprietà adesso se noi andassimo a studiare tutte queste proprietà sarebbero centinaia e quindi rischiamo di perderci alla fine troviamo quasi sempre quelle più utili ho capito la presentazione che fate su dove serviva il get selected text non l'avevo colto ecco guarda caso qua selected text è una delle proprietà allora le proprietà poi le impareremo meglio quando quando facciamo un approfondimento sull'MVC sono una cosa particolare della libreria JavaFX in cui ciascun elemento ha definite non solamente dei campi delle property Java delle variabili locali ma proprio un oggetto particolare che si chiama property e in tutti gli oggetti JavaFX c'è questa nella documentazione c'è questo schemino che ci riassume tutte le property è la cosa più importante perché ci dà un pochino la carta di identità di ciò che può fare quell'oggetto e ciò che io posso fare su quell'oggetto e così come vedete ad esempio c'è la proprietà text che dicevamo prima e c'è la proprietà selected text che definisce lo spiega qua i caratteri nel text input control che in questo caso potrebbe essere un text area o un text field che sono state selezionate dall'utente quindi l'insieme di tutte le proprietà che ci servono sono all'interno del Java doc ovviamente non è così facile da leggere perché alcune proprietà sono definite qua alcune proprietà sono ereditate dagli oggetti principali e se volete node si porta dietro un centinaio di proprietà diverse che sono replicate su tutti i nodi per fortuna non dobbiamo conoscere tutte però per andare a ricercare essenzialmente questo è il luogo in cui andare a ricercare oppure in quell'altro sito che vi avevo fatto vedere in cui le stesse cose sono viste in modo un pochino più grafico quindi sono anche forse più facili da trovare ok quindi in questo caso il bottone cancella andava a capire qual era il testo e poi a questo punto aveva una stringa da matchare con una stringa intera e poi modificavo le stringhe quindi in questo caso sì usate ovviamente sempre anche l'autocompletamento di Eclipse nel senso che adesso qua non so in che progetto sono però ricordatevi in questo caso c'è un campo label e label punto nel momento in cui premo il punto se aspettate un attimo Eclipse vi fa vedere tutti i metodi che hanno senso su quell'oggetto sia l'oggetto diretto che ereditati vedete che a fianco c'è scritto nod oppure label oppure region cerchiamo a vedere anche da dove è stato ereditato quel metodo quindi a volte semplicemente dentro Eclipse uno ha la possibilità di vedere tutti i metodi possibili e a fianco la documentazione degli stessi questo mi raccomando funziona solo se Eclipse è collegato a internet cioè quando state lavorando siete collegati a internet quindi se lavorate a casa vabbè avrete sempre la wifi quando lavorate nel politecnico magari molti di voi si dimenticano di accendere il wifi e allora Eclipse non sa che cosa dirvi perché questa documentazione qua lui la prende online direttamente nel sito di Java quindi se non compare la documentazione così giallina vuol dire che non siete connessi a internet e quindi vi state perdendo una bella parte questo testo che c'è qui è esattamente lo stesso che c'è sul javadoc che troviamo anche online quindi è esattamente allineato dopodiché per i problemi appunto le domande i problemi specifici dell'esercizio del laboratorio 1 ovviamente domani è dedicato proprio a risolvere e anche vedere poi nel merito i problemi di ciascuno le ore del laboratorio sono più dedicate a quello il discorso del forum che dice Vincenzo potrebbe essere un'idea che alternativa integrativa al gruppo Telegram vediamo adesso non vorrei lanciare troppi strumenti parallelo in modo che poi dopo non ci capiamo più nulla però potrebbe essere un modo lo stavamo già anche valutando però dobbiamo capire un po' se può essere utile se preferite appunto tra di voi lavorare su un forum che a questo punto è visibile a tutti oppure su un gruppo Telegram che chiuso privato tra di voi raccolgo diciamo così suggerimenti ci ragioniamo e poi vedremo di proporre o di trovare qualche soluzione ecco prendo esempio adesso non prendertela di Maria Laura del messaggio che ha scritto adesso tu finisci dicendo com'è che faccio a spiegarti qual è il mio problema e va bene allora partiamo da qua se sono gli esercizi la quarta e la quinta video lezione quali sono? che ne abbiamo solo quattro in tutto pubblicate se è già andata avanti sulle elezioni dell'anno precedente non lo so comunque qui dentro ci sono due domande uno è quando avete un problema come fate faccelo capire allora se il problema è relativo al laboratorio vi collegate nell'ordine di laboratorio e come vi dicevo uno lì a questo punto non sarà un meeting tutti insieme ma voi siete collegati ma uno per volta diciamo così colloquia parlo gli altri se vogliono possono ascoltare oppure no e quindi sul laboratorio il contesto giusto è quello altrimenti ci contentate ci potete contattare direttamente facendoci anche capire dov'è il problema allora il problema per noi quindi anche via mail ad esempio in quel caso perché magari se è un problema specifico puntuale non ha senso in una chat di gruppo non fare perdere magari dieci minuti per capire qual è il problema allora in questo caso ciò che vi chiedo sempre di essere più possibili precisi cioè ho provato quella roba e non mi funziona a me non dice niente ok allora l'ideale sarebbe che voi se avete una versione del programma che vi dà un problema fate un commit su github e ci dite guarda io l'ho messo sul mio reposito su github è questo io ho questo questo è il codice che sto provando non solamente un pezzo del codice ma tutto il progetto perché poi magari il problema voi lo vedete in un punto ma in realtà è da un'altra parte quindi noi abbiamo bisogno di vedere l'intero progetto e poi ci indicate esattamente qual è il problema quindi può essere un messaggio d'errore può essere un comportamento sbagliato può essere che l'eclips allora a quel punto magari mi date la videata dell'eclips oppure meglio ancora le copie e incolla del messaggio d'errore ecco molte volte la videata non serve a niente perché ci fa vedere solamente dieci righe un errore però dobbiamo vedere ma allora com'è impostato le librerie ma allora com'è definita l'altra classe e così via e allora rischiamo di dover andare avanti indietro più volte di mail o di messaggi per per riuscire a capire esattamente dov'è il problema non è sempre semplice prendete presente l'esperienza pratica è che magari vai in laboratorio uno ti fa una domanda magari pensa sia una domanda stupida magari è una domanda semplice la risposta è semplice però per riuscire a capire quale sia la risposta abbiamo bisogno magari di sederci cinque dieci minuti e capire cosa stavate facendo in quel momento quindi questo un pochino fare la distanza è un pochino complesso nei casi in cui quindi riassumendo se avete dei problemi pubblicate il codice su github ce lo segnalate ad esempio la mail ricordate che siamo tre docenti quindi magari potete segnalare uno l'altro l'altro ancora che ci dividiamo un pochino il carico e indicandoci qual è il vostro repository github e qual è esattamente il problema il messaggio d'errore o quello che succede che non funziona in modo che noi possiamo la prima cosa è essere in grado di riprodurre ciò che non funziona poi se non si riesce a distanza a capire risolvere il problema allora eventualmente potremmo anche usare zoom a questo punto con un meeting ci mettiamo d'accordo ok ci vediamo domani pomeriggio alle 15 ad esempio 10 minuti ci colleghiamo in zoom mi condividi lo schermo e vediamo cosa succede avendo lo strumento magari che è l'equivalente mi fermo 5 minuti alla fine della lezione per farti una domanda oppure passo un attimo in ufficio perché non riesco a risolvere il problema allora questo cerchiamo di farlo con la video chat quando il problema diciamo così con uno scambio di mail non si capisce quale sia e allora a questo punto mettiamoci le mani sopra insieme questo come metodo generale e quindi nel caso di Maria Laura dacci le informazioni che ci servono così soprattutto il codice e il messaggio d'errore e così proviamo a dare un'occhiata ok altri spunti domande richieste che noi abbiamo in sospeso quindi cosa da pensare da studiarci bene è uno degli esercizi di live coding va bene farlo in video ma magari qualcuno lo facciamo in chat e così sperimentiamo vediamo i vantaggi pro e contro sapendo che ricordiamoci sempre che le chat sono comunque registrate ok quindi chi non può diciamo così seguire in quel momento lo può fare anche a distanza e poi c'è il discorso di facciamo un forum facciamo un gruppo telegram o qualche cosa che vi permetta di scambiare dubbi comunicare le cose e questo cerchiamo di trovare una soluzione ecco quindi se avete anche delle nel frattempo ci pensate anche voi avete dei suggerimenti due righe via mail e poi noi cerchiamo di strutturare una soluzione se necessario per gli appuntamenti invece prossimi domani laboratorio nel resto della settimana arriveranno dei nuovi video so che li aspettate con ansia e poi ci rivediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora se non cambiano le condizioni del contorno cosa che speriamo diciamo così che peggio di così mi sembra abbastanza difficile ecco però spero che in qualche modo si riesca con questi metodi a supplire abbastanza alla mancanza di presenza fisica al Politecnico domani sì 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 come ho detto domani manteniamo le squadre come se foste in laboratorio quindi la squadra 1 alle 8.30 squadra 2 alle 11.30 per permetterci un pochino anche di contare quante persone ci sono e vedere quanti riusciamo effettivamente a seguirli poi vedremo essenzialmente in funzione di come è andata domani se lasciare due squadre oppure fare magari quattro squadre magari è più facile fare gruppi più piccoli sai che in quell'ora ci sono magari 20 studenti un'altra ora altri 20 studenti piuttosto che avere tre ore in cui ci sono 50 studenti vediamo un po' come va la lezione del lunedì non c'è nel senso che le lezioni noi abbiamo tre ore tre slot alla settimana ok sarebbero un'ora un'ora e mezza lunedì e due slot di un'ora e mezza al martedì allora io li ragiono così due delle lezioni che quindi fanno tre ore alla settimana le facciamo in video la terza lezione quindi pubblicheremo i video la terza lezione facciamo il chat non posso uccidervi dandovi tre ore di video alla settimana più quattro ore e mezza di chat moriamo tutti e poi non sarebbe neanche corretto perché sarebbero molte più ore rispetto a quelle che faremo in lezione quindi la lezione del lunedì e la seconda ora del martedì sono sostituite dai video mentre invece la prima ora del martedì cioè questa dell'11.30 guarda caldo stiamo finendo intorno alle 13 quindi più o meno va bene ma magari a volte saremo più lenti a volte saremo più veloci invece rimarrà interattiva questo mi sembra un buon un buon appunto di compromesso ecco a meno che poi scopriamo che magari è meglio fare diversamente e lo decidiamo la divisione delle squadre voi io manterrei la stessa divisione che avete negli altri corsi quella del portale della didattica non so le portali non siete tutti insieme negli altri corsi avete altri corsi in cui siete divisi perché altrimenti facciamo la classica divisione ALMZ poi vediamo gli altri anni per evitare il disagio fortissimo di essere al Politecnico alle 8.30 che sembrava una cosa difficilissima alternavamo i turni quindi una settimana faceva ALMZ la seconda settimana facevamo MZ alle 8.30 alle 11.30 vediamo nel senso che come dicevo non siamo neanche sicuri che sia la modalità migliore quella di avere questi due gruppi via via nelle varie settimane però l'idea è comunque che probabilmente è meglio avere pochi studenti per volta un pochino più organizzati per riuscire a seguirvi meglio il codice del meeting non rimane lo stesso perché per ora è un meeting unico non sono ancora riuscito a capire se si riesce a fare una sorta di stanza permanente che sia sempre la stessa e quindi la risposta non lo so nel senso che la cosa o ricevete un altro avviso che vale solo per la prossima volta oppure riceverete magari riesco a creare una stanza permanente e e quindi sarà sempre lo stesso link in cui entrare ogni volta ho iniziato ieri a imparare questo tool quindi non sono ancora tutti i trucchi quindi per ora diciamo rimaniamo che vedrete comparire i video non mi sembra necessario avvisarvi con un avviso sul portale ogni volta che pubblico un video per non fare spamming essenzialmente quindi se volete potete iscrivervi direttamente su youtube e vi da lui la notifica essenzialmente il problema degli avvisi è che è impossibile vederli per la congestione sul portale nel cambio d'ora questa qua è una cosa che non avevo colto ma oggi l'ho messo all'ultimo momento l'avviso questa mattina al 10 per le prossime volte lo schedulo in anticipo ok quindi visto che zoom ha la possibilità già lo potrò già fare forse già oggi o domani la possibilità già di definire un calendario dei prossimi incontri elimida già il codice quindi potrei pubblicare poi quel codice giorni in anticipo quindi a questo punto non è più un problema quello di riuscire a accedere al portale dal momento dall'ultimo momento essenzialmente cosa stavo dicendo non mi ricordo più sugli avvisi sul codice ah no dicevo notificarvi quando arrivano i video metterò sul registro nel sito del corso mi sembra una buona idea si può fare sicuramente quindi metto magari il link prima e poi al post quando sarà disponibile la registrazione al posto del link allo zoom metterò il link al video però vabbè sono dettagli questi grazie per i suggerimenti appunto la pubblicazione di nuovi video voi la vedete o se guardate la playlist su youtube oppure una volta che è online lo aggiungo anche sul sito del corso appunto non non mi sembra a meno che non lo vogliate non mi sembra il caso di mandarvi un avviso ogni volta perché altrimenti poi quando non arrivano troppi avvisi è come se non arrivasse nessuno ecco l'informazione tecnica si vede bene si sente bene avete avuto problemi di connessione di stabilità sì ho fatto una domanda stupida perché ho chiesto una domanda al positivo e l'altra al negativo quindi il sì e il no sono va bene colgo che lo strumento funziona meglio di chi invece ha provato altre soluzioni più politecniche essenzialmente allora continuiamo a usare questo per le prossime lezioni ok se non c'è altro allora vi lascerei al pranzo sì tommi rimani un attimo cerchiamo di vedere questa cosa e per gli altri ci rivediamo appunto la settimana prossima e ci sentiamo via video via mail nel frattempo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.